pesaro capitale fare vivere il maestro sakamoto nell'anteprima nazionale di kagami allarme palestre per l'avvio della stagione sportiva in città carenza di strutture scuola dell'infanzia sette bambini esclusi dall'iscrizione perché non vaccinati pescatori né difficoltà per la mucillagine vitri chiede alla regione dei ristori immediati basket e simone zanotti torna la vl io felice di essere qui sarà un campionato divertente una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi venerdì 30 agosto che apriamo con una notizia dedicata al mondo dello spettacolo la città di pesaro presenta uno degli eventi clou del programma di capitale italiana della cultura 2024 con il debutto in prima nazionale all'editorium scavolini dello spettacolo kagami si tratta di un progetto inedito che vede protagonista ryuki sakamoto tra i massimi compositori contemporanei per il grande schermo l'artista giapponese tornerà a suonare dalla viva più di un anno dalla sua scomparsa grazie all'utilizzo di tecnologia all'avanguardia capace di fondere immagini tridimensionali nel movimento con l'ambiente circostante dando vita ad un evento in in realtà mista mai sperimentato prima vediamo un'anteprima si è tenuta questa mattina presso l'auditorium scavolini la presentazione di kagami l'evento clou nel cartellone di pesaro 2024 capitale italiana della cultura che ridà vita alle opere del maestro sakamoto tra i massimi compositori contemporanei per il grande schermo vincitore di un oscar e di due golden globe l'evento sarà fruibile dal 30 agosto al 12 settembre alle ore 17 20 e 23 presso l'auditorium per rivivere con i propri occhi quella che è l'arte di un maestro immortale abbiamo tutti condiviso un flusso di ragionamenti e di esperienze che mettessero la tecnologia ma anche la bellezza e l'unicità di alcune esperienze al centro e quindi approfittare oggi della possibilità anche all'interno di questo bellissimo auditorium riadattato a una funzione unica essendo un'anteprima europea di ospitare la musica ma anche le immagini e insomma il corpo immateriale ma anche percepibile di sakamoto l'operazione credo all'altezza della di una capitale europea in questo caso speriamo pensiamo che questo contribuisca a posizionare pesaro in una dimensione che ha sempre voluto percorrere cioè quella della continua innovazione guardando alla bellezza guardando al patrimonio culturale guardando la musica ma sapendo anche mettere in relazione con le nuove opportunità all'evento di presentazione anche le persone vicine al maestro sakamoto che hanno raccontato non soltanto la sua figura ma anche ciò che kagami vuole trasmettere quello che posso dire è che è sicuramente un'esperienza unica come nessuna mai vista prima e infatti molto spesso ci sono proprio molte persone che si fanno prendere dall'emozione perché come sappiamo purtroppo da un anno sakamoto non è più con noi però è come se fosse ancora qui con noi grazie alle sue esibizioni e quindi molto spesso ci capita anche di vedere persone uscire dalla stanza in lacrime è stato proprio quando si stava discutendo della possibilità di realizzare questa esibizione quando Todd Eckert e Sakamoto si sono incontrati che era stato il motivo per cui poi li ha spinti a realizzare questa esibizione perché Sakamoto era interessato a poter passare la sua arte anche alle persone che ancora non erano nate e questo è il modo migliore per farlo un'occasione quella di oggi per lanciare Pesaro in direzione Europa visto che l'evento kagami rappresenta anche una prima europea innanzitutto dobbiamo finire capitale italiana della cultura un risultato veramente enorme la quantità di persone che stanno venendo a visitare Pesaro sono molto numerosi noi ci auguriamo che questo nostro primo obiettivo è quello di far sì che anche per i prossimi anni riuscire ad avere come dire un train o di Pesaro capitale italiana della cultura per avere sempre più persone che decidono di venire a visitare il nostro territorio dall'altra parte questa è un'anteprima europea sono veramente molto curioso perché si tratta di un vero e proprio concerto che Sakamoto ha voluto registrare prima di morire, pochi mesi prima di morire e che oggi grazie a questa grandissima operazione è possibile rivedere penso che sia la prima volta nella storia che è possibile vedere come dire un concerto inedito come se fosse praticamente dal vivo ben venga anche il progetto che è stato rilanciato nel 2033 dovremmo cercare di capire anche con il resto del territorio come fare dobbiamo andare avanti uniti ma intanto godiamoci quest'anno io sono un amministratore, comunque una persona abituato innanzitutto a pensare a quello che stiamo facendo a ottimizzare i risultati di quello che stiamo facendo ancora mancano quattro mesi tutto l'aspetto dell'autunno nel quale avremo delle novità sia a livello di piazza, di organizzazione della piazza di eventi che faremo in piazza di eventi che vorremmo fare sempre all'interno di questo spazio e quindi ancora di strada ce n'è molta ma è finito l'evento sicuramente entreremo e cercheremo di capire, di parlare anche di vedere cosa fare per il 2033 ma intanto godiamoci quest'anno e dal mondo dello spettacolo cambiamo argomento perché la consigliera comunale di centrodestra Giulia Marchionni ha lanciato quello che è un vero e proprio allarme palestre per l'avvio della stagione sportiva autunnale come riporta la Marchionni il mancato completamento delle nuove palestre di via La Marmora e di via Togliatti al quale si aggiunge anche la demolizione della palestra di Dante Alighieri comporteranno la mancanza di tanti spazi in ambito sportivo che però sarebbero serviti in città Siamo alle porte della stagione sportiva con l'arrivo dell'autunno a Pesaro però risorge un problema che è quello della mancanza di strutture e quello della mancanza delle palestre Sì, ogni anno puntualmente con l'avvicinarsi di settembre ci troviamo davanti a questo dilemma tutte le società cercano spazi il Comune di Pesaro ha un regolamento per la concessione dei locali ad uso sportivo palestre, piscine, alle società sportive e ai gruppi sportivi e puntualmente non sappiamo chi è riuscito ad ottenere spazi e soprattutto qual è l'organizzazione come è stato suddiviso il Monte Ore allora ho voluto presentare un'interrogazione in Consiglio Comunale per chiedere all'assessore qual è stata l'organizzazione che ha previsto e soprattutto si è previsto un principio di rotazione anche in questo caso perché dalle segnalazioni che ricevo ogni anno insomma è evidente che chi viene escluso dal Monte Ore siano un po' sempre gli stessi vedremo in Consiglio Comunale l'assessore come risponderà e soprattutto vedremo quale sarà l'organizzazione per il prossimo anno sportivo delle palestre e delle piscine comunali a questo perché si aggiunge che alcune palestre che dovevano essere completate sono ancora in fase di lavori oltre alla Scuola Dante Lighieri che non sarà usufruibile per anni Sì, sulla Dante ormai direi che ci possiamo mettere una pietra sopra nei prossimi anni sulla palestra di Via Togliatti i lavori sembra siano in corso sicuramente invece sono fermi sulla palestra che dovrà affiancare la Scuola Brancati doveva essere inaugurata così ci avevano detto per giugno e addirittura in campagna elettorale lato PD dicevano che da settembre sarebbe iniziata la stagione sportiva per tante realtà all'interno di quella palestra ad oggi è un cantiere fermo non si potrà utilizzare come non si potrà utilizzare lo spazio dell'Auditorium Scavolini almeno in questo momento quello che ci è stato detto è che l'Auditorium sembra sia così monopolio dei grandi eventi e per lo sport una considerazione un'interrogazione arrivate in merito immagino a quello che avete raccolto da società sportive che vi hanno interpellato sì una così richiesta di spazi che non viene soltanto da parte delle società più piccole ma anche da parte di società che tutto sommato gravitano nelle serie più più alte purtroppo c'è un problema di spazi nella nostra città in cui svolgere attività sportive speravamo che almeno l'Auditorium Scavolini davvero potesse ospitare non dico l'attività ordinaria di una piccola società sportiva però almeno quelle così società che gravitano nelle serie della pallavolo del basket più più elevati invece sembra che ad oggi quell'Auditorium appunto sarà così luogo di grandi eventi e nulla più mi sono anche chiesta e l'ho fatto poi formalizzando in un'interrogazione se ci sia il pavimento sotto la pedana il pavimento in cui poter così giocare a pallavolo o giocare a basket credo che nelle prossime settimane arriverà una risposta e poi sarà così alla possibilità di tutti i cittadini tirare qualche considerazione in merito 7 bambini sono stati esclusi dall'iscrizione alle scuole d'infanzia il motivo è che non sono vaccinati lo ha stabilito una determina a firma del dirigente comunale del servizio alla persona e alla famiglia che ha annulato l'iscrizione presentata dai genitori per stabilire quali fossero i bambini da non ammettere negli asili comunali è stato necessario l'intervento dell'azienda sanitaria territoriale e nella determina del dirigente si legge che è considerato che le iscrizioni si sono svolte dal 18 gennaio al 10 febbraio e nella domanda di iscrizione il genitore ha dichiarato di prendere atto che l'assolvimento degli obblighi vaccinali costituisce un requisito di accesso alla scuola dell'infanzia e visto che dall'elenco aste risultano come non in regola con obblighi vaccinali 7 minori si è proceduto con la decadenza dell'iscrizione la mancata vaccinazione non impedisce solo l'accesso alle scuole comunali ma ovviamente anche a quelle statali mentre per le private la situazione può variare soltanto con l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie i bambini esclusi potranno rientrare nelle iscrizioni ma compatibilmente con le disponibilità di posti che ci potranno essere negli asiri e nelle materne prescelte ed è entrato in funzione il primo dei due angiografi digitali per le procedure interventistiche dell'aste Pesaro Urbino installato nel reparto di cardiologia interventistica del presidio al San Salvatore di Pesaro un'apparecchiatura dalle valore complessivo di circa 460 mila euro esclusi i lavori di adeguamento dei locali per circa 150 mila continua così l'implementazione e il modernamento delle parco tecnologico dell'azienda per favorire tempestività ed efficacia nei percorsi di cure permette alla disposizione di professionisti e pazienti le migliori tecnologie finita la sala e l'installazione del primo angiografo lunedì partiranno i lavori che porteranno la messa in opera del secondo nuovo angiografo i due dispositivi consentono lo studio invasivo e gli interventi sulle cuore sono integrati con tutte le tecnologie all'avanguardia di diagnostica di immagine funzionale consentendo così di effettuare procedure con massima accuratezza risoluzione e precisione sulle imprese della pesca sono pesanti gli effetti della mucillagine che per diversi periodi nel corso di questa estate ha comportato una vera e propria ostruzione a qualsiasi tipo di pescato un problema su cui l'aggiunta Acquaroli secondo la consigliera regionale Michela Vittri non deve alzare la bandiera bianca ma deve dare una risposta alle grido d'allarme dei settori interessati la mucillagine purtroppo ha creato pesanti problemi e danni economici agli operatori del turismo balneare e della pesca ed è per questo che già il 15 di luglio abbiamo depositato un atto in consiglio regionale firmato da tutto il gruppo consigliare del PD Marche con cui chiediamo alla giunta Acquaroli quattro precise azioni urgenti una ricognizione del fenomeno ma soprattutto di valutare lo stato di calamità e anche ristori urgenti oltre che a pianificare immediatamente azioni future di prevenzione in particolare mi preme evidenziare la necessità di ristori perché la regione deve avere un fondo per le emergenze non è un paragone adeguato quello con la pandemia ma giusto per ricordarlo ci sono già dei codici a teco delle attività economiche che avevano beneficiato dei ristori e che anche in questo caso potrebbero essere comunque considerate per ristori immediati visto che hanno subito pesanti danni penso ad esempio a tutti i pescherecci che non solo sono stati costretti a fermare l'attività di pesca a causa della mucillagine ma hanno anche avuto danni permanenti alle imbarcazioni alle reti ai motori e a tutto il meccanismo dello stesso peschereccio quindi necessario intervenire dato che proprio la regione ha questa responsabilità e questa competenza con un fondo apposito per le emergenze l'interrogazione è già stata depositata a luglio e ci auguriamo una risposta immediata e questa mattina si è tenuta una conferenza stampa per presentare lo stato dei lavori della scuola secondaria di primo grado Alessandro Manzoni un'occasione per fare dei chiarimenti rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi sui social in merito all'argomento ho ritenuto opportuno come rappresentante legale di un'istituzione dello stato chiarire la posizione della scuola nessun lavoro viene fatto se non viene svolto in tutela degli alunni non sarebbe mai stato svolto questo lavoro quindi partiamo partendo da questo principio ciò che si vede dal di fuori e lo so benissimo che un cantiere è un cantiere soprattutto in una fase estiva dove le attività sono svolte senza persone quindi vengono accelerati i lavori giustamente perché poi si rallentano quando entra la scuola ho ritenuto veramente opportuno indire la conferenza stampa per portare un chiarimento più ampio per evitare polemiche ma anche cattive cattive informazioni non corrette poi all'interno era previsto certo da marzo adesso ci sono il nuovo crono programma che viene aggiornato e poi c'è la riunione con i genitori questo proprio è un metodo di lavoro tanto che ho detto che questo incontro parte dal consiglio d'istituto perché chiaramente in consiglio d'istituto noi affrontiamo queste problematiche continuamente tanto che stasera abbiamo il consiglio d'istituto avremo parlato dello stato di avanzamento per il prossimo anno perché le cose debbono essere organizzate e sviluppate con una logica insomma la riunione con gli addetti ai lavori che ribadisco è un tavolo ampio perché ci partecipa la scuola partecipa la ditta che esegue i lavori partecipa il comune che comunque è una competenza normativa ma antica ormai con l'autonomia scolastica e l'autonomia in generale sull'edilizia scolastica il progetto è di tipo partecipativo cosa significa? che nella fase finale della progettazione e non me che non sono un architetto un ingegnere ma il professor Ceccarelli l'architetto Ceccarelli che viene comunque collabora con la scuola da anni ha partecipato attivamente dicendo questo laboratorio è meglio dimensionato così quest'altro non so ci servono determinate strutture proprio perché alla fine uscirà una manzoni rinforzata non solo per quanto riguarda la problematica sismica non solo per quanto riguarda coibentazione quindi lo star bene dentro anche dal punto di vista adesso termico per quanto riguarda l'aspetto assicurativo che è stato dibattuto e che esce dalla sicurezza la tutela della sicurezza del lavoro ma riguarda gli alunni la scuola ha un'assicurazione che copre fino veramente a danni permanenti a morti cioè è un'assicurazione completa e seria della quale uno spera sempre di non doversi avvalere e che può riguardare anche in realtà altri momenti prettamente didattici però è un'assicurazione ampia un contratto importante quello che viene fatto per quanto riguarda invece la sicurezza sul lavoro io sono la responsabile di fatto di tutto il problema della sicurezza sul lavoro mi avvalgo di una società esterna che mi svolge il ruolo di RSPP proprio per avere una puntualità in tutti quelli che sono i documenti di valutazione dei rischi sia diciamo nella normalità del vivere scolastico sia nell'eccezionalità del vivere scolastico e quindi questa è una consulenza alla quale si integra il ruolo dell'architetto cecarelli non è cosa da poco per una scuola avere un proprio consulente che affronti tutto il discorso edilizio ma anche di proprio di miglioramento degli spazi insomma l'assicurazione certo che c'è ma il proprio punto non è se c'è un'assicurazione il punto se gli alunni possono stare lì dentro ci può essere stato chiasso? certo che sì ho parlato di disagi è impensabile quando si hanno i lavori in caso di disagi li viviamo tutti chiaro che questo è una scuola però abbiamo anche cercato di ruotare le classi per esempio per ridurre il disagio quando ci sono i lavori in un luogo che può essere un laboratorio quel laboratorio viene spostato in un altro spazio quindi tutto quello che deve essere fatto è stato fatto è stato fatto il gruppo sportivo i corsi di potenziamento d'inglese tutti i laboratori di latina e quant'altro anche in orario primo pomeriggio abbiamo svolto tutto quello che la nostra regolare progettazione io nego assolutamente che questa cantiere sia stato reso possibile da un dirigente scolastico perché alla fine la responsabilità è mia senza condizioni di tutela della sicurezza personale degli alunni e di tutela della sicurezza sul lavoro del personale e domenica prima settembre le quartiere di Villa Fastigi si colorerà di tanti giovanissimi ciclisti maschi e femmine di età compresa tra i 6 e i 12 anni impegnati a disputare il terzo trofeo Pisaurum Young Riders la manifestazione già organizzata lo scorso anno è stata da questa edizione intitolata la memoria di Giuliano Gurini indimenticato giudice di gara ed appassionato di ciclismo originario di Villa Fastigi il ritrovo delle squadre provenienti da tutto il circondario marchigiano romagnolo e d'Umbro è previsto in via Farini alle ore 8 e 15 mentre la partenza della prima corsa avverrà alle ore 9 e 30 e il festival nazionale le bel canto ritrovato chiuderà la sua programmazione con un concerto del tutto particolare dalle titolo i marchigiani alla scala realizzato in collaborazione con l'Accademia Teatro alla Scala di Milano questo concerto per canto e pianoforte che si terrà a Pesaro il giorno 1 settembre 2024 alle ore 21 nella Sala della Repubblica delle Teatro Rossini è dedicata ai compositori marchigiani Vincenzo Federici Nicola Vaccai Lauro Rossi e Alessandro Nini con alcune gemme musicali nelle prime esecuzioni mondiali in epoca moderna tratte da loro opere che esordirono proprio nell'Ottocento alle Teatro alla Scala di Milano e nella splendida cornice della darsena borghese si è svolto il passaggio delle consegne tra il tenente di vascello Stefania Battista comandante sedente e il tenente di vascello Maria Giovanna Trombetta comandante subentrante un momento che segna il proseguimento di una tradizione di servizio e dedizione alla Marina il sindaco di Fano Luca Serfilippi ha voluto ringraziare il tenente di vascello Stefania Battista che ha svolto con professionalità e determinazione l'incarico di custode delle porte e delle mare di Fano in questi anni augurando così al tenente di vascello Maria Giovanna Trombetta un cammino ricco di soddisfazioni per questo nuovo incarico carica passione amore per Pesaro e per tutti i tifosi biancorossi queste sono alcune delle motivazioni che hanno spinto Simone Zanotti a tornare a vestire la maglia della Carpegna Prosciutto Basket e Pesaro motivazioni chiare che il giocatore torinese ha spiegato nella sua conferenza stampa di presentazione sono tornato perché dopo aver parlato con il coach e conoscendo già la piazza per me è un piacere ritornare qua e come ho detto già tante volte Pesaro la considero ormai come una casa quindi oltre l'aspetto del basket c'è anche il benessere personale le amicizie tutta l'atmosfera anche extra basket e quindi è stato un connubio di tutte queste emozioni che mi ha fatto anche firmare qua poi ovviamente lo stimolo l'ambizione di quest'anno è molto alta e il progetto e tutto quanto mi hanno fatto ritornare a Pesaro tanta energia vicino al ferro di fare quello che io so fare meglio per carità e niente di cercare di far gruppo perché alla fine l'importante all'inizio della stagione è questo far gruppo cercare di amalgamarsi al meglio e far circolare tanto la palla far muovere la palla cercare di far entrare tutti in campo comodi con quello che ognuno di noi sa fare quindi adesso noi ci stiamo allenando ci stiamo allenando bene cerchiamo di fare questo ecco io ho tanti ricordi poi ce ne sono di belli ce ne sono di meno belli ci sono anni in cui abbiamo combattuto di più anni in cui combattuto nel senso sai salvezza anni in cui abbiamo raggiunto i playoff quindi è logico che preferisco anni preferisco delle stagioni piuttosto che altre però io di Pesaro ho sempre un bel ricordo perché ripeto qua ci vivo benissimo sto benissimo sia in campo che fuori dal campo e questo credo che sia una cosa molto rara l'affezionarsi proprio alla città anche quindi questo dai il ricordo ricordo più bello è questo il mio ruolo sarà prettamente da cinque poi posso sicuramente andare a andare anche nel ruolo di quattro comunque siamo un reparto lunghi che possono intercambiarsi a vicenda giocare spesso insieme quindi siccome sarà un campionato molto divertente vedo duro sicuramente duro perché sono tantissime realtà storiche formazioni importanti come come la nostra come Cantù come Brindisi come Udine sarà molto divertente dai ci stiamo allenando tutti bene tanto e bene poi ovvio adesso siamo tutti un po' acciaccati e stanchi nonostante nonostante per la preparazione ma come tutte le altre squadre alla fine la preparazione è questa è il momento più duro della stagione quindi bisogna farsene una ragione per questo ed era questa l'ultima notizia del nostro notiziario prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo vi ricordo gli appuntamenti su Rossini TV a cominciare subito dopo questa edizione del nostro telegiornale con la natura della cultura magazine lo potremo vedere alle ore 20 poi anche il risultato della settimana vi ricordo sabato e domenica negli orari che vedete in grafica tema di questo episodio di questa sera macerata feltra e frontone che saranno capitali al quadrato insieme e vi ricordo anche la nostra prima serata alle ore 21 e 20 con il nostro programma dedicato sempre a Pesaro 2024 estate capitale l'undicesima puntata in onda questa sera si continua a ballare alla palla nell'estate infinita vi ricordo anche le repliche che vedete in grafica consueto appuntamento delle sabato mattina con la nostra rassegna stampi in diretta alle ore 7 e 20 in diretta anche su Facebook sulla nostra app e sul sito domani mattina a condurre la rassegna delle sabato ci sarà la nostra direttrice Emanuela Rossi e poi le repliche che vedete in grafica e di davvero a tutti vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti